Ci sono delle armi però che si possono utilizzare. L'ESA avete citato prima per esempio la questione della Keyflex che delocalizza. Ha preso soldi pubblici. Non è possibile che queste prendano soldi pubblici. L'ILVA, quando diceva per esempio per gli appalti dati alla nuova società dello stesso proprietario che però licenza i suoi dipendenti, ha avuto moltissime risorse pubbliche. E allora la proprietà non è che può prendere i soldi e scappare. Noi dobbiamo mettere un impianto legislativo dove dico se tu hai avuto l'aiuto pubblico, che vuol dire l'aiuto delle tasse, del sudore di tutti i cittadini di questo paese, dopo non è che te ne puoi fregare quando non ti conviene in più, perché allora devi pagare. E quelle ci sono, devo dire, su questo, noi abbiamo presentato proprio se legge e ne è dietro. Però mi scusi, non voglio entrare in polemica su questo. Però quando avevamo un Presidente del Consiglio che invece di festeggiare, prendere come esempio, quegli imprenditori, quelli magari che citavo prima, che malgrado le tasse, malgrado la concorrenza, malgrado tutto, con fatica rimangono sul territorio e danno da lavorare ai cittadini di questo paese, va a prendere come esempio magnifico del più grande imprenditore del mondo, Marchionne, che porta la sede all'estero per pagare le tasse all'estero, allora c'è un problema di cultura del mondo imprenditoriale nel nostro paese. Noi dobbiamo mettere in atto, noi dobbiamo mettere in atto quelle politiche che possano far tornare dalla parte del pubblico, che non vuol dire del governo di turno, ma da parte di tutti i cittadini di questo paese, il manico del coltello. E si può fare, noi abbiamo degli impianti legislativi che evidentemente non sono andati in quella direzione con il mito del mercato a tutti i costi. Io sono convinto che il mercato sia importante, ma non può essere a tutti i costi, devono esserci le regole pubbliche che tutelano i lavoratori, i cittadini e i territori. Cittadini e i territori.